L'altra, altra, metà del cielo, Maria Laura Annibali Alla fine degli anni Sessanta, Giorgio Wimberg ha coniato il termine omofobia per indicare la sensazione di paura, di odio, di disgusto verso l'attrazione o l'amore tra i membri dello stesso sesso. Vivere nascoste Quando noi ci accetteremo, ci accetterà anche la società, Maria Laura Annibali